Ciao a tutte e benvenuti sul mio canale. Le anticipazioni di oggi della grandiosa serie turca Terramara saranno accattivanti come sempre, ma anche piene di colpi di scena. Tanto da farci rimanere attaccati allo schermo. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like al video. Ma ora iniziamo. In questo episodio la protagonista sarà a Zize. La nonnina rischierà la vita dopo essere stata investita con l'auto da Ilmaz, il quale però non perderà tempo a soccorrere immediatamente. La nonnina ormai lo sappiamo soffre di demenza senile, per questo varie volte nella serie si caccia in diversi guai. E anche stavolta è scomparsa all'improvviso dopo essersi allontanata. Però fortunatamente l'anziana viene ritrovata da Ali Ramed Fekeli, che l'ha riportata a casa. La vecchietta aveva anche causato un incendio tempo fa involontariamente, dove però stava rimanendo vittima il piccolo Adhan, poiché l'aveva seguita all'interno della stalla. Poi era partito l'incendio e il piccolino era rimasto chiuso dentro in un recinto e rischiava di bruciare. Fortunatamente è intervenuta a Sermin che lanciandosi nelle fiamme aveva salvato il piccolino. Successivamente Azize viene svegliata dal russamento di Fadik. Allora, dopo essersi svegliata, chissà che cosa le è passato per la mente. Ha deciso così di uscire a fare una passeggiata da sola nel cuore della notte, nonostante stesse piovendo a dirotto. La pioggia è così forte che quando Ilmaz rientra dall'ospedale dopo essere andato a trovare il suo padrino Fekeli ricoverato lì appunto per l'infarto, avendo poca visuale a causa della pioggia, investe la povera vecchiettina che era proprio in mezzo alla strada. Ma Ilmaz si ferma, scende e non perde tempo. Subito la carica sull'auto per soccorrerla e per portarla immediatamente all'ospedale. Così la porta in ospedale dove viene curata immediatamente e avendo bisogno di sangue, a questo punto Ilmaz decide di donarle il suo per salvarle la vita. Quando vengono informati Demir, Unkar e Yaman arrivano arrabbiatissimi all'ospedale perché ritengono lui responsabile per averla investita e quasi quasi lo incolpano che la stava uccidendo. Ma successivamente, dopo aver scoperto che lui si è prodotto... Allora... Ma successivamente gli informano che chi ha salvato la vita alla nonnina è stato Ilmaz perché gli ha donato il sangue permettendogli così di continuare a vivere. E il gesto della caia placherà così la loro rabbia. Queste le anticipazioni di oggi per rimanere sempre aggiornate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. E se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Ci vediamo presto con un altro video sulla vostra serie turca che preferite e non solo.